vai bigolone io lo voglio sempre in tibet perché da quando il gioco mi ha scammato da quando twitch mi ha scammato cioè blizzard ma scammato questa volta qual è la tua strategia qua ci abbiamo nella lobby xx show il gattino il gattino come si esatta il fight come si esatta il fight come si esatta il fight chiudi e riapri alt f4 appena prima della scala del tempo rientri io sono un grande fan di quella 22 che si miglia si va sulla forza del numero col gattino o lui no vabbè lei ha colite più forte di sostanza un minimo molto bene Io c'ho la foffa Qua Vigore sarebbe stato fuertissimo Vabbè Ho delle recluse fresche fresche per te Le probabilità sono al mio favore Lo speravo di meglio Chiaramente Per me è molto importante Per dare meno punti di vita possibili Che poi come vedete Perdo in ogni caso Allora Saldi Buone due bestie Ma poi io devo decolare 5 Non scherziamo Capisco tutto E giocare 6 Però non posso pesare a 4 Vedi la goccia del 2 Per l'altro demone No Che c'è lì No Tanto in termini di statistiche Stiamo lì E E io non voglio Cioè Vado a perdere i gold Per Per pochissime cose Per quasi nulla Non è tutto Non c'è quello che è Una mina Non c'è lì Non c'è lì Per me Non c'è lì Scudo Eeeh Scudo Che scudo Che scudo Che hai messo Vabbè Vabbè Non abbiamo perso Buono 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 Questa è buona Questa è buonissima Questa è buonissima Cioè Per andare di punti vita Qua E sarebbe stato Molto brutto Vediamo Cosa ci offre La casa Intanto Ne ha fatta Nate I table La casa offre Merda 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 Peggo Non voglio lui Non so Convintissimo Che andasse fatta Mamma mia Io posso Poter A turno 7 Un tipo Con Mamma Verra E L'istia No Mamma Verra E l'istia 19 Danni 12 17 17 E A A Sto Punto Dammi Mamma Pea Che devo Gli Fa Ti prendiamo E l'istia Qualcosa ci faremo Che devo Rialdare Solo Tenta Rialdare Non so fatemi giocare con un io power per favore mi serve posso vendere lui 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 quello farà un bel po di danni marone i i il i i i i i i i Devo commentare questo shop Il turno della morte Il turno della morte Il turno della morte Il turno della morte Ma come Khadgar Non farò mai a tempo Ma che è sta merda Datemi il barone Butto via lui Butto via lui Dentro Elisa Cerco barone Dove è un altro jolly Sa bene che facci Questo è un barone Lo tripe Ti fa un altro tripe a cazzo Tipo questa Metto lui Metto lui Compio lui Lo metto la canaglia Se no Aspetta qua Secondo me Non paga sta cosa Fia No Ok 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 No 97 300 Win Sì Mi serve il barone e un altro Coso Tieni la pressione Tutto inutile Tutto inutile Tutto inutile Tutto inutile Assolda pure una di queste reclute Volevo uscire, no? Meglio assoldare una recluta Vediamolo, un fottuto Baione Assolda pure una di queste reclute Chissà quali segreti sveleremo Forse la devo triplare quella canaglia Non so come devo posizionare Triplare questo Che lo sia sbagliato Ah no La triplo con lui E poi faccio Lo prendo anche qua Ok Torna, no? Era fast turno Sì, era fast turno What the fuck? Ok Ok Sì, sì, sì Sì, sì, lo sono Sono, sono Me ha affettato Oh, ma lui è bella Elisa Dammi Dammi Non so se stai Blare Ok Il problema è Che dare taunt Ragazzi Capite? Ha le due canaglie Ha le due canaglie Ok Budi, Cicso e Show E' un lobby Budi vs Show E' merda Sapete che forse il cannoniere Non è un bruttissimo Non è un pink Voglio taunt Voglio barone Quindi con barone La build funziona Anche senza sei pezzi Cioè Cioè Secondo me Si può mettere Elisa E' una canaglia Poi attacca la seconda Eccetera Guardate la canaglia Questa Mi spacca No, cambiare Elisa Non mi piace Tanto avere lei O l'altro Non cambia niente Funziona a sette pezzi Il primo Non li brocca tutti Il secondo Li brocca tutti No Ok Tutti Ha ha Non arriva a tenere le lies Oh no Fuck Mmm Non arriva a tenere le lies Non arriva a tenere le lies No Elisa O barone Niente Meglio Assoldare una recluta Finché puoi farlo O dare tanta canaglia A giocare in sei Ma Una di queste reclute Non ho trovato neanche Aigus Non ho trovato Aigus Vero Quello non mi cambia Che è Dona Stigli No Puoi vedere un piccolioni il capolavoro di questa villa è notevole possiamo dirlo questa vita è una sorta di di capolavoro ho vinto è stato facile grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti